musica 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 mamma mia di chi è? tu vai tu questo musica 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 vediamo un po' che rank sono questi no non sono un rank non sono un rank per niente tocca let's go vedi alfa e la madonna merda musica 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 nooo c***o beh ok meno male buona 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 vedo vedo e vabbè and avanti and avanti and avanti ancora vai alfa vai let's go no va l'ho chiamata io adesso voglio imparare a fare il il fast kick anzi no come direbbe qualcuno i soldi non fanno la felicità no 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 la farà martina ragazzi fanno qua guarda là non va in però no se poi si è stata più brava va in lo stesso no non ci credo sono andati in tre come tutti e presso la palla si ho visto ah bene cosa potrebbe mandare sotto vai tu vedo ok no 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 mi viene l'ansia freestyle attenzione attenzione bravo alfa vabbè abbiamo vinto dai ggg la porta è l'altra tranquilla è tutta fatta apposta e allora farli spaventare bella skin quella dominus molto molto bella ok è tua pure le ruote si giocamano molto più tagliardini questi tolta tolta cado forse ce l'ho io forse ce l'ho io no dai che sfiga però la tengo ancora perso di loro bravo alfa vai tu no aveva fatto una bella non ci sono non ci sono non ci sono vai tu dai eh l'ho visto l'ho visto veramente close veramente close veramente close cado veramente mando la tengo verso il centro la tengo avanti stiamo ancora avanti mamma mia let's fucking go oh questi sono duri eh mamma mia vado io forse di alfa bravo no non ci dovevo andare è martice da sola eh non mi dire queste cose però sto sparata aiuto Simo dai io l'ho tolta gliela ritolgo mando avanti mando avanti l'ho messa più o meno let's fucking go dai 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 che si fa dai che si fa e quittano let's go let's go let's go let's go let's go let's go certo che c'è il codice creatore su rocket league certo il codice creatore è croatomist ragazzi proprio il nickname come di twitch ok riaccomi ah questi già mi fanno paura scherzo non ho paura di nessuno no no l'ho bumpato però dai se non era lì facevo goal no è goal peccato ho sbagliato io vado vado ok ok eh questa vai in questa è instoppabile vado a sinistra ehi no eh capito quindi no non ce la faccio ancora a competere non sono a quei livelli dai non pensavo che missasse sto qua però ma hanno missato in tre hanno missato questi fanno 2 goal ma ti rendi conto sono stata mezz'ora a guardarli pronta per volare e stare la palla non potevo hanno missato in tre io ero lì fermo a guardare aspettare per volare hanno missato in 40 ma te lo giuro io ho visto che lo fermo Dani ad aspettare ho detto ma volo e hito la palla sicura niente eh eh xd ok ho fatto il kickoff lento sono arrivato comunque prima eh mia ezz e andiamo abbiamo fatto quittare anche qua hanno quittato ma let's go let's go e quittano ragazzi e quittano penso che uno sia lo smart uno smart con la macchina tutta blu l'hacktain tutta blu ah e giustamente dici senza nulla ah vuole tirare lui ok ok questi sono di più però arriva zitto paghiaccio proprio lui oh no ok no mi sa che siamo tutti in caps però sai forse anch'io stai trollando stavo a fare solamente trollando ma che c***o è fatto ma che c***o è vabbè io voglio anche commentare guarda vado io un giorno riuscirò anche a fare queste cose mi ci vuole solamente dedizione e tempo io gioco da un c***o molto tempo ma se veramente hai detto che questi erano più forti ma se 0-25 va bene Alfa no se quittano quittano no se quittano devi aspettare 40 minuti ti prego no perché le semina sono al miglio delle tre ah vabbè magari possono puntare sulle altre due partite non può andare in non può andare in non può no come stanno giocando dai mia nonna senza mani sarà più forte ma sono veramente scarsi me l'ha passata guarda ma sono veramente cioè non ha senso raga ma com'è possibile allora o gli altri erano veramente senza mani allora ok va bene mi dissocio a questo miss 40 euro tanto su che sarà un gol in quanto non può non essere gol di Martina no il bel segno vai Alfa il palo frenzionato dal palo e il palo in faccia dai però no no dobbiamo aspettare 80 minuti no 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 hanno quitato la prima sono di nuovo loro? si sono di nuovo ok si no no vedi vedi tu ok vedi sai fare tu il fast kick off io no devo impararlo mannaggia mia nonna ok no concentriamoci non possiamo perdere i gol di vantaggio ok è l'unico ha vinto il torneo gold stagione 2 è il gol di Martina no è la madonna ce l'ho ok che danni mi tocca ma lei va di pervertito maledetto vai tu però che non so tre yarding ma io l'ho detto che questo qua è un torneo che è normale che vogliamo vincere è un torneo cioè non è che siamo in pubblica can you stop tre yarding come puoi stare a dare con triple yarding dai per favore ma can you stop tre yarding proprio dai come on wake up è tua ezz proprio la sento bella sento bella sento bella sento no ma no sono proprio una strega di me devo stare zitta mamma mia che ass non ci credo io devo stare zitta comunque ops va bene nel fare questa cosa è andato bene ma dai ma come c***o mi serve non dia c***o e si passa alle finali così e si passa alle finali così gg 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 ma quindi scusami ora sono le final adesso ci sono le final meglio di tre pure queste meglio di tre pure queste oh sono in due in due raga oh anima non è ancora detto niente magari sono due grand champion con seconda e ci fanno il buco di c***o come da so dire mampato perché giusto perché ebbè 2v3 insomma rendiamolo uno no cioè rendiamolo molto più bello perché perché essere 3v2 quando vuoi essere 3v1 no come non è no 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 abbiamo trollato no perché voglio che tiri tu mi fido più di te del tuo tiro non è che si erano bravi comunque ok scherzavo mi serveva in dunque proprio di sì vabbè vabbè queste potevano farla però dai era una mozzarella guardala ma poteva farcela no no Ez è felice vedere l'amico che spinge no no Ez il goal dico non Ez il game anche perché abbiamo perso il game è perso volete essere 3v1 va bene 3v1 aia alfa non para ci delude in questo modo attenzione alfa stava con tanti i soldi che aveva appena preso da terra incredibile vai tu alfa vai tu alfa ah ma sono in 3 chi è il pagliaccio che si è unito parata sono bravi eh devi attivare tutte le tue capacità incredibili eh devo tryhardare vai 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 metti l'asciugamanino nelle spalle devo tryhardare devo tryhardare a me sta anche laggando la lobby vedo peccato comunque son bravi cioè si veda fanno goal veramente eh no no non ce l'ho io non ce l'ho ok stella lui meno male alfa ma donna del signore ma che cazzo è successo è la madonna che cazzo di lancio vai tu alfa che ansia eh ma son bravi eh noi si non so un platino si dico il loro il patino 3 quasi diamante ma diamante non so se lo dico non so forse una diamante forse una diamante giri 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 no tranquilla 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 no a me stava laggando veramente tanto comunque avevo 100 tping e passa secondo me anche per quello che loro non non riuscivo a generare il il terzo perché la gava vai basta devo tryhardare mia ok l'ha presa lui guarda tolta let's fucking go vedi alfa eh comunque volano questi eh eh son bravi no non ci credo questa è stata tolta goal mi sa però no è stata colpa mia che l'ho lisciata sul test c'è l'alfa c'è l'alfa si tolta oh che mi f***a va in questa no uuu uuu tolta bravissima marty uuu l'ha hitto io in teoria non ci credo tua mano la manda ancora avanti no vai tu vai tu vai tu ma ma è la prima d'arrivo ragazzi ho detto di essere un po' in ansia e questi sono anche molto bravi ok uuu beh ok io lo rimando indietro più o meno poi nel bus al centro manda avanti oddio forse va in no la para poi in goaremos oh mio dio let's go let's go EJG đầu ovviamente ovviamente non me l'aspettavo l'ultimo gol così chiamo ovvio gg ma gg da gg